In questa fiera presentiamo sistemi integrati per il trattamento delle acque sia refle che di recupero. In questo caso abbiamo un sistema di trattamento delle acque refle dedotte dalla fognatura e nell'altro caso invece il riutilizzo delle acque piovane per l'utilizzo sia in riguo ma anche nei sistemi idrosanitari. Abbiamo diversi plus rispetto alla concorrenza che partono dal 1960, cioè tutte le nostre competenze ed esperienze accumulate nel nostro settore, cioè nel settore del trattamento delle acque refle, da allora fino ai giorni d'oggi. Abbiamo integrato diverse aziende in questi ultimi anni, il che vuol dire anche integrazione di specifiche tecniche e conoscenze. Grazie